Mentre il primo è... ...esca, allora... ...quando abbiamo fatto questo movimento ...lo ribassamento restava in griglia... ...destra e sinistra ...adesso c'è una deformazione elastica ...devo posizionare la parte simile ...destra ...uno...deformazione... ...simmettrica ...deformazione elastica ...simmettrica, la parte simile ...ma anche potere qua ...no...no...no... ...senti che il nostro sacro fa... ...il momento ...l'ascoltato ...l'ascolto il nostro sacro? ...no... ...l'ascolto il nostro sacro? ...no... ...quando questo... ...quando questo, la stessa, la stessa ...evi sentire, la vita e il branco ...neanche, guarda, vedete qui ...non parte ...non parte ...no, aspetta, guardate qui ...un interesse ...quanto viene ...un c'è un cibo ...un cibo ...un cibo ...un cibo ...un cibo ...un cibo ...un cibo ...non parte facendo lo stesso motivo, lancio semplicemente senza spostarmi, quando ho gestito, quando io voglio fare questo non devo spostarmi, ma lo spazio proprio si, se decido di spostarmi non mi accorgio, non è questo, perché se il pubblico non funziona, se lui è spazio, non è spazio, questo, il pubblico è vero, lo vale semplicemente se è dritto, ma se no, no, mi tiro un dritto, mi tiro un dritto, allora si trova, spostando, quando, prima devi tenere, perché tu non ti devi portare, soluzionamente viene, viene sulla sezione calva, spingi, questo è lì, non spazio, prima devi tenere il centro, poi ti dico, spingi, là, spingi, là, spingi, lì, là, lì, vedi che non stanno, perché se ne sta o lupo, seguite, 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 ultimo questo, poi c'è la necessità, posso anche scappare di qua, lo vedi che sono sempre incollato, qui viene, spingi, guarda, eh, guarda, oh, 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 lo tengo sempre incollato, grazie. 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 Grazie.